Ciao, buonasera a tutti ragazzi, mi chiamo Matteo, sono uno studente di Roma, però attualmente sono all'Expo Milano 2015, infatti adesso sono dietro Padiglione Spagna, che è la vostra casa qui all'Expo. Volevo rubarvi qualche secondo solo per dirvi il bene che sono stato a Madrid, soprattutto all'area di Juan Carlos. Non ho trovato solo un'università efficiente, con corsi interessanti e attuali e professori molto competenti, ho trovato anche persone che fanno ancora parte della mia vita, quindi persone importanti, come la mia ragazza, fortunatamente. Dirvi che è stata un'esperienza meravigliosa, ho trovato tutto quello che non c'era nella mia università di Roma e di questo voglio ringraziarvi. Ogni volta che vengo a Madrid mi ricordo di voi. Vi mando un saluto a tutti da Milano, un bacio a tutte le ragazze e a presto!